Adesso uscita, chiudo questo, prendo, 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 avancio dritto contro il suo vomito, sono Giancarlo Casalari, insegnante del Giudo Tepsi Suono, sono venuto a partecipare a questo stage tenuto dal maestro Dretto di Sanara, sul Shinkensho Buvato. Sono molto soddisfatto dell'insieme, ho avuto modo anche di vedere tecniche e passaggi che non ho mai visto in tutto il mio percorso giudoso. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie, sono Viviana Noceva, sono venuta a questo stando per approfondire gli argomenti legati all'argomento che non ho mai fornitato. Penso che sia importante per la competenza delle comprensioni della difesa dell'attacco per noi giudogna. Ciao a tutti e buona serata. Ho fatto lo stage in 5 from Buvaza con Alfredo Bismara, è stato veramente bello, è un'esperienza molto insegnativa, soprattutto per la rottura delle leve, la rottura delle prese, anche non so, anche il caldo di meravigliare alle queste cose possiamo essere molto utili. Grazie a tutti.